Siamo alla terza, solo femmine di due anni sul miglio, otto in prima, due in seconda, sono in dieci, vi ho un rapporto di scuderia, quattro otto, le due jet, Artaterme e Aquila jet e la corsa è molto aperta e da trovare la cavalina giusta, soprattutto per un piazzamento mezzo meccanico in movimento, dieci femmine di due anni in distanza del miglio, terza del convigno. Allineamento che gradatamente va a completarsi, sbanda un po' Minopoli con Alnair e quindi perde le ale, così come l'otto di Aquila. Si va a completare la piegata e inizia a prendere velocità la macchina. Alisson va al comando con a largo autorità Grimm e a largo di tutti tenta di portarsi al comando, la cosa avviene alla cale di Nardo mentre è di galoppo il tre Alisson di Gaia. parcheggia l'avversaria, 13 e 9 il lancio e siamo al completamento della piegata con autorità al comando nei confronti di Ada Grace partita bene a precedere a Ineciac. Quarto iniziale che se ne va in 29 abbondante e davanti alle tribune tenta la risalita il numero 4 di Artaterme. Rinviene anche a Aquila, si completa i 600, si è un po' scatenata questa di Di Nardo, ne viene fuori un 44 e 4 e prende netto vantaggio, si migliora Minucci che scende in seconda posizione per l'errore della cavalla di Gallucci Ada Grace. Insiste a largo Artaterme, mezzo miglio, se ne va in un minuto e un po' di spiccioli, si diverge da 1,15 e mezzo. Le cavalli affrontano il penultimo rettilineo con Artaterme Jet che va deciso su autorità e la dispone già a palo lontano, chilometro in 16,1. Viene via bene Astrid del Ronco con Ferdinando Minopoli e Astrid è incisiva, appariglia completamente l'avversaria. Le due prendono vantaggio, sta passando la Ronco, 14,8, 1,39, tre quarti di miglio. Le cavalli sono al completamento della curva finale. Retta d'arrivo con la Manu for Mission di Ferdinando Minopoli che è padrone di situation i colori della Munacone mentre rinviene alla grande Aquila Jet e mentre Astrid del Ronco fa un vero canter bene Artaterme Jet e ha la grande Aquila Jet. 2,1 e 7,1, 16,1, un debutto con i Fiocchi per questa femmina della scuderia Munacone, i fratelli Varriale con un Ferdinando Minopoli, seguro seguro in Salchi a questa Ronco che di fronte passa, prende vantaggio e se ne va. In chiusura 3,30 euro per la targata Ronco. Linea allo studio. Noi, si, se, 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 se qui, se, 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 se